Considerato oggi il centro pulsante vitale di Alliste, Piazza San Quintino prende il nome dall'omonima e bellissima chiesa che si affaccia su di essa. Completamente in linea con le esigenze del nuovo assetto urbanistico e viario rappresenta uno dei punti di aggregazione sociale e culturale di Alliste. L'ampio spazio pavimentato che si affaccia di fronte alla chiesa madre è circondato da alberelli e panchine che creano il luogo ideale per una passeggiata o per una sosta, lontano dai pericoli del traffico stradale. Il luogo dove oggi sorge la chiesa di San Quintino era posizionato fuori dalle mura urbiche, in aperta campagna. Questa scelta fu dovuta alla necessità di realizzare un luogo di culto accessibile e facilmente raggiungibile dai malati, che erano ricoverati nell'allora vicino ospedale di San Quintino. Solo nel 1875 divenne la sede parrocchiale di Alliste. Tutta la raffinatezza stilistica della chiesa di San Quintino si sviluppa al secondo ordine. Qui elementi decorativi misti fanno da corollario allo sfarzoso frontone, al centro del quale è posizionata una nicchia con il dipinto del patrono San Quintino. Grazie a tutti!